eccoci qui con un nuovo episodio della saga viaggio in moto nel selvaggio vietnam o detta così sembra il titolo di una serie netflix e invece è la nostra vita da qualche settimana questa parte neanche due mesi fa salutavamo il viaggino in puglia e ora siamo dall'altra parte del mondo con una due ruote a scoprire un nuovo paese e una nuova parte di noi sono cambiate un sacco di cose ma una costante c'è la velocità di viaggio 50 all'ora ormai non mi ricordo nemmeno più cosa voglia dire superare questa cifra comunque strano ma a volte non ci credo nemmeno io che stiamo vivendo una vita così avventurosa eppure è tutto reale e a ricordarmelo ci sono i momenti no come quelli di queste giornate un susseguirsi di alti come le montagne di dalat e bassi come il mare della costa sud del vietnam qualche inconveniente tecnico va sempre messo in conto ormai lo sappiamo ma un profumo familiare e un piccolo villaggio di pescatori possono essere un tocca sana vero anghelina se fosse una puntata di una serie ora partirebbe una musica di suspense con tanto di facce preoccupate ma siccome non lo è sigla e inizia il video buongiorno dal mercato di dalat noi siamo al caffè stamattina al 1989 angela che mi aspetta per cominciare a fare colazione abbiamo preso un po di roba stamattina anche questa bella torta buongiorno angela buongiorno le piccole gioie del mattino il caffè vietra vita la torta la banana il panino con la frittata tra l'altro questo sembra anche shakerato si è buonissimo ho già assaggiato stiamo preparando le ultime cose prima di partire qui davanti a dove abbiamo appena preso il caffè la mappa pronta col telefono che ci fa da navigatore lo zaino qua dietro è bello pronto legato fermo e adesso partiamo dobbiamo solo mettere lo zaino nero davanti e si va oggi destinazione mare si torna al mare ci infiliamo nella rotonda le regole ci sono ma sono poco chiare uno si approccia piano piano e segue un po il flusso dei motorini la parte più complicata è sempre uscire dal centro delle città poi una volta fuori è un po' più liscia c'è meno gente meno traffico e riusciamo andare più serenamente stiamo salutando dalati in questi giorni ci siamo rinfrescati e riposati per bene e quindi siamo pronti a tornare verso il caldo questa bolla di fresco sta per finire oggi comunque il panorama di fronte a noi vedete com'è abbastanza alpino diciamo e abbiamo appena passato tutte le valli si vede adesso dietro queste dietro questi alberi si vedono tutti tutte le serre delle fragole di dalat ma ragazzi la signora si trasporta un banchetto intero con tutte le ciotole sulle spalle siamo saliti seguendo una strada molto panoramica e siamo arrivati in mezzo alle nuvole cioè là in fondo c'è una paleolica neanche si vede perché è coperta per tre quarti dalle nuvole siamo in alto adesso adesso credo inizierà la discesa come sono veloci si veloci si vada si siamo su 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 ti esce il bergamasto quando vai molto ma magari una bella polentina oggi a pranzo dai dai la famosa polenta vietnamita per rimanere in tema lombardo c'è il caffè milano tac no cioè capito ma vedi i signori che sono passati con la scala piccola sosta con vista noi stiamo andando in quella direzione guardate qua le nuvole siamo adesso in alto e adesso andremo a scendere da questo lato su questo versante della montagna ci sono un sacco di tornanti che ci porteranno proprio lì sotto ai piedi della montagna e è impressionante come si vedono proprio le nuvole che si muovono super veloci di fronte a noi per la cronaca ci siamo fermati a casa di qualcuno cioè questo è un porticato della casa di qualcuno però una bella vista questa casa comunque lo stile è interessante perché si passa dalla muratura alle lamiere a legno questo è tutto legno questo è un po' casa coloniale alla fine sì molto saluta telecamera telecamera ciao ah bella giocondina ragazzi no ci stiamo veramente trovando bene dopo i primi giorni di mal di fondo schiena alla fine secondo me ci stiamo dosando ben bene sì abbiamo trovato il ritmo giusto perché facciamo 100-120 km massimo per fare la tappa e poi ci fermiamo qualche giorno non sempre filmiamo quindi filmiamo magari un giorno poi siamo uno due giorni in cui ci godiamo proprio la vita locale in cui siamo tranquilli nel posto dove ci troviamo e non è semplice semplice perché comunque avendo la libertà del mezzo e avendo un tempo limitato nel paese uno potrebbe dire io vado 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 perché comunque voglio dire entro tre mesi bisogna uscire bisogna venderla bisogna decidere cosa fare se portare in un altro paese quindi uno si potrebbe far prendere anche dall'ansia invece noi stiamo facendo un po' anche dei calcoli dei chilometri nel senso col tempo che abbiamo siamo in media dovremmo fare in media almeno 40 km al giorno quindi contando insomma cerchiamo di muoverci senza correre troppo e cerchiamo di stare in questo equilibrio e per ora ci stiamo trovando benissimo ovviamente sappiamo che ci sono posti dove magari anche salendo ci fermeremo di più perché magari troviamo l'atmosfera giusta la condizione giusta per rimanere di più ci fermeremo un po' di più e magari in un posto non sappiamo ancora dove al momento e quindi intanto stiamo continuando la nostra risalita è il vietra ma è bello lungo ragazzi ammazza io questa gioconda l'amo sempre di più sì bella nel giocondino comunque non abbiamo la radio perché ovviamente è una moto però cantiamo tutto il tempo volevo dire questa cosa abbiamo cantato i puffi oggi qui adesso pensavo che potremmo passare sui monti con annetto ah eh sì siamo in montagna no ma stia scendendo anche là eh infatti mentre scendiamo poi cambieremo canzone verso il mare noi puffi siamo così puffiamo tutti di basta stendiamo un velo penoso ci sono queste bellissime stelle di natale tutte rosse una macchia rossa questa è la vista che c'è su questa strada e qui invece il caffè eccoci lì riflessi nello specchio siamo stati attirati da queste due colonne con i dragoni e da una tigre dorata dietro sempre proprio sobrio direi sobrio affinatezza sì ma andiamo a vedere cosa c'è là dietro magari un comitato di accoglienza wey che succede? sono tranquilli ma ma quanti sono? ci facciamo annusare un po' da questi guardiani canini e finalmente riusciamo a dare un'occhiata a questo tempio che è molto piccolo ma particolare piccola cascata con in mezzo la statua della madonna questa è sicuramente ragazzi la strada più bella che abbiamo fatto finora qui in Bietra senza dubbio stiamo facendo una discesa pazzesca piena di tornanti in mezzo a questa natura verdissima bella 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 proprio la più bella finora grazie a tutti Stiamo scendendo sempre di più e sono comparse le piante di banana al posto di quelle di caffè e di fragole e fa anche molto più caldo e più umido, si sente l'umidità che sale. Breve, cambiamo il nostro outfit, un po' come se fossimo San Remo, addirittura. La vallata davanti a noi, c'è una piccola montagna che sbuca lì in mezzo tra le palme e intanto ci siamo fermati un attimo perché Paolo fa il cambio d'abito. Si toglie la felpa, passiamo le maniche corte, torniamo le maniche corte, abbiamo guadagnato 10 gradi minimo. Minimo, il sole picchia! Una bellissima scena di vita agricola, i bufali, le mucche, le banane e dietro le piantagioni di riso e tutto il riso lì steso ad asciugare. Un quadro queste immagini. Ci stiamo infilando in questo tempio attirati da queste statue. Guardate qua che roba! Che bello che compaiono, quando meno te lo aspetti. All'improvviso, questi posti sono enormi, guarda, lì ci sono, guarda, quelli che sono tutti i monaci. Statue di monaci, qua la statua del Buddha, gigantesca. No, ma è stranissimo questo posto. Guarda il signore che legge le sacre scritture seduto sull'elefante. Bello! Un po' pacchiano. Bello però! Ma la cosa più assurda è che compaiono, dove ci sono questi paesini minuscoli, no? Con le case così solo costruite attorno alla strada principale. Per cui tu vai, vedi tutti questi negozietti, tra l'altro tutti chiusi, e a un certo punto, bam, una statuona gigante così dorata. E' un po' buonissimo, eh? Dolori? Vai, fai un po' di stretching qua. Ci siamo quasi, mancano meno di 10 chilometri, siamo arrivati. Il nostro bel riso con il tofu e le verdure quotidiano, e ovviamente, come al solito, il lavoro in corso, il sottofondo. Sempre il filore di lavoro in corso. Allora, addirittura, in questo piatto c'è qualcosa di fantastico. Adesso vi faccio vedere l'originale. Qua c'è tutto il buffet. E hanno fatto loro, quindi ci hanno messo un pezzetto di ogni cosa a testa. Questi sono assurdi, sembrano veramente tantissimo, degli spiedini di carne. E in generale, guardate, questo è un arrotolato, sembra, non so se non è un arrotolato con la carne, pare i bistecchini, ma è tutto, tutto, sempre, comunque, vegano. Parcheggiata la Gioconda, numerino 17, che è il nostro numero porta fortuna, e l'hanno scritto sul motorino. Hello, come on. Un mille piedi. Ma è gigante. Ma che ingresso dall'Iciacolò consumata. Questo è un posto dall'Iciacolò, in effetti, perché siamo stretti sulla collina e abbiamo trovato questo. Sono gli insediamenti dei Ciampa. Quella dei Ciampa è un'antica dinastia che si è insediata qui, quindi nel centro-sud Vietnam, già in tempi antichissimi. Una dinastia che è durata moltissimo, ha visto il suo massimo splendore tra il VI e il XVI secolo. I primi Ciampa che sono arrivati qui erano in realtà provenienti dal Borneo Malese e si sono insediati in questa zona. La particolarità di questa popolazione è che ha subito una forte influenza dall'India, quindi erano principalmente induisti. E i templi che ci sono, anche quello che c'è qui, sono dedicati al culto di Shiva. Quindi all'interno si trova il Lingam, che avevamo imparato a conoscere benissimo quando eravamo in India, e anche Nandi, che è appunto il veicolo di Shiva, questa mucca. Un'altra caratteristica dei Ciampa è che era una società matriarcale, quindi la donna era a capo della famiglia e dava il cognome a tutti i figli. L'attività principale che svolgeva questa popolazione era quella della ceramica, quindi producevano le ceramiche e anche in questo caso le donne avevano il ruolo più importante di tutti, mentre agli uomini era relegato solo il compito della cottura. Questo avveniva però all'interno della famiglia, quindi l'importanza della donna era centrale all'interno della famiglia, perché poi in realtà i capi tribù erano sempre degli uomini. La dinastia dei Ciampa ha subito moltissime influenze e attacchi da più parti, soprattutto dalla Cina e dagli Khmer, ma è comunque riuscita a sopravvivere per un lunghissimo periodo di tempo, fino quindi al 1800. Quello che vediamo alle mie spalle sono delle torri, che non sono dedicate in realtà a delle divinità, ma a uno dei re Ciampa, che ha fatto grandi cose per la popolazione. In particolare questo re si è occupato di tutto quello che riguarda il bacino idrico della zona, quindi fare in modo che arrivasse l'acqua potabile in questa zona. La giornata di oggi aiuta tantissimo, perché il sole e l'azzurro del cielo fanno risaltare ancora di più questi mattoni rossi, che sono proprio la particolarità di questo posto, che tra l'altro ci va a fare anche un salto nello spazio, perché assomiglia molto alla città di Bagan, in Myanmar, dove ci sono tutte queste pagode sparse nella giungla. La cosa bella dei semafori in Vietnam è innanzitutto che c'è il conteggio dei secondi che, insomma, mancano al verde, ma poi soprattutto il fatto che, come si vede sotto, è sempre verde se si gira a destra e se si è delle moto. Quindi, very very nice! Arrivati a destinazione nella città di Fangrang. Siamo ormai arrivati sulla costa, ma oggi, per oggi, non vedremo il mare, lo vedremo domani perché adesso siamo finiti, conclusi, sbatteriati, come si dice? Cotti. Esauriti. Sbatteriati. Questa però è la stanza, la stanza è bella, è bella. Adesso vi mando un po' d'amore e vi mando anche queste immagini. Questa è la stanza. L'abbiamo già fatta diventare un campeggio. Un campeggio. Qua è tutto da asciugare sotto il ventilatore che dà una mano. Infatti qua, ragazzi... Guarda qua, facciamo vedere la praticità. Tac. Cioè, noi riusciamo... Un tocco di classe. Questa è proprio un trucchetto per pochi attaccare il ventilatore. Cioè, guarda come sarebbe bella lei, poverina. Poverina, non è per niente male, ma poi noi, insomma, ci mettiamo del nostro per renderla comunque un campeggio. Poi devo dire la doccia bijouè. Fantastica. Calda, giusta. Un sacco di acqua, un getto bello. Comunque la chiudiamo qua. Adesso la chiuderò e poi ci vediamo domani con un bel lancio sul letto che vedrete... È bello morbido. E buongiorno da un posto completamente diverso rispetto a quello in cui ci siamo addormentati ieri sera. Siamo a Vinh Hai, che è questo bel paesino, un porticciolo che si trova sulla costa vietnamita. Abbiamo fatto una quarantina di chilometri verso nord oggi e abbiamo ripreso pochissimo perché qualcuno ha avuto qualche problemino oggi qualcuno presente qualcuno qualche defezione qualche defezioncina ci chiedete spesso ma non state mai male che mangiate di tutto mangiate di tutto in genere no stiamo bene però stamattina qualcosa è andato storto non so se è stato il caffè comunque è avuto un mal di stomaco pazzesco cioè noi siamo partiti e andava tutto bene dopo il caffè partiamo tutti frizzanti con la caffeina in corpo via si parte verso nord a un certo punto boh a un certo punto boh si blocca Angela si è rotto fermati fermati tra oggi ci siamo fermati accanto a delle saline bellissime c'erano questi chilometri chilometri di saline purtroppo c'è un sacco di vento credo che si veda anche adesso perché c'è tantissimo vento in questa zona e quindi non abbiamo potuto far volare il drone però lo spettacolo lì era assicurato perché dall'alto erano rosa era bellissimo si rifletteva il sole si muovono velocissime le lungole proprio perché dietro queste catene montuose credete che siamo circondati dalle montagne ma lì sopra il vento è fortissimo è fortissimo e quindi niente drone assolutamente no tra l'altro dopo le saline siamo capitati davanti a un campo di basilico che ci fa il basilico? basilico in Vietnam non si sa perché sia lì perché nessuno lo usa cioè non abbiamo mai visto nessuno usare il basilico eppure c'era questo campo dal profumo inconfondibile magari lo esportano verdissimo magari in Italia mangiamo del basilico vietnamita chi lo sa chi può dire comunque c'era campo di riso basilico boh all'improvviso e poi cosa abbiamo trovato anche dei vigneti su questa strada anche lì strano una strada che era allucinante perché da un lato c'erano queste rocce gigantesche che uscivano proprio dalla giungla di fronte il mare e i vigneti quindi anche lì vino vietnamita che non è rinomato nel mondo però a quanto pare viene prodotto proprio in questa zona si vede che c'è il clima ideale poi sono spinti dal vento un vento bello forte siamo arrivati qua una volta giunti qui siamo andati a cercare la nostra bettolina del giorno che abbiamo trovato per 8 euro a notte e poi ve la mostriamo e abbiamo scoperto che questo luogo non è particolarmente turistico per il turismo diciamo internazionale molto 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 più turistico per i vietnamiti che vengono qua per una cosa in particolare una cosa abbastanza ovvia e cioè per mangiare il pesce cioè i prodotti di questa acqua prodotti della terra prodotti dell'acqua prodotti di questo mare volevo rassicurare però tutti in particolare mia mamma mamma sto bene tutto a posto anche perché ti avevo detto di stare attenta il mal di stomaco in realtà è durato poco un paio d'ore e poi è finito poi siamo arrivati qui mi sono un attimo rilassata sdraiata è andata decisamente meglio noi abbiamo detto buongiorno ma in realtà è pomeriggio perché sono le tre e non abbiamo ancora mangiato nulla quindi direi che un assaggino lo facciamo anche noi un nome diverso abbiamo preso i bancani in due versioni questi che sono con il pesce e in particolare con i gamberetti e con le seppioline e poi una versione invece con l'uovo allora si prende una tortina di riso fatta con la farina di riso e si intinge in questa salsina poi si mangia in realtà è che ne abbiamo già mangiati qualcuno e sono molto buoni ma perché non sono sapori forti sono molto delicati perché comunque è farina di riso che non è fritta ma è cotta in quella piastra che è appunto la forma di queste cocottine piccoline e quindi fuori rimane bello croccante perché si forma la crosticina è tipo la crosticina che si forma dalla polenta quando fai la polenta sul paiolo e dentro invece rimane morbido quindi molto buono e si sente bene il sapore del pesce che devo dire è veramente buono è questo ragazzi cos'è? il biasino barambulante cocktail bar più che il biasino è un biasione questo perché è un Mitsubishi L300 ma è bellissimo ma hai capito che roba ben rosa salmone organizzatissima la ragazza sto tirando fuori tutti i bicchieri gli sgabelli tutto perfetto c'è un atmosfera stranissima in questo paesino perché non c'è niente nei 20 chilometri sotto e niente nei 20 chilometri sopra e quindi c'è questo effetto che sembra tipo hello sembra tipo di essere su un'isola è stranissimo e ci sono un sacco di bambini fanno un sacco di bambini in questo posto si guarda poca televisione ma ci si dà molto da fare in tutto il Vietnam in tutto il Vietnam in realtà una cosa strana a cui stiamo assistendo in Vietnam è la preparazione al Natale Natale che chiaramente non è una particolare festività locale però vedete qui per esempio danno le canzoni di Natale hello e questo è un albero di Natale fatto con le bottiglie vuote siamo di fronte a quello che è un mercato del pesce improvvisato ci sono i ricci di mare guardate che grossi ah qua si sta giocando intanto ci sono tutti i pescatori che la sera se la giocano e questo è quello che hanno pescato immagino in giornata nei giorni scorsi ammazza che aragoste di mezzo metro e poi tutto il resto sempre tante aragoste pesci abnormi ma guarda quelli là che strani quelli neri là in fondo noi non siamo esperti ma questo pesce è stranissimo roba andiamo a vedere che cosa combinano adesso i pescatori dopo la giornata di pesca hanno tratti molto concentrati aiaiaiaiaiaiai Siamo arrivati in fondo al molo che c'è da cui partono anche le barche che fanno alcuni tour in giornata e prima abbiamo fatto un tail lapse e sembra che la telecamera si muova e sia su una barca in realtà la telecamera era perfettamente ferma ma erano le barche di fronte che per il vento ballavano tantissimo tanto guarda lì si vede il signore sulla barchetta quella a cesto che sta andando verso la barca principale guarda come la manovra, la barchetta rotonda Si muove con una maestria pazzesca Oddio e quanti sono loro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, almeno almeno 10 Guardate il signore è seduto lì in basso Very good, very good Hello Wow Pazzesco È un traghetto Hi Perッ Does questo kasih? Come si, come vai? Per 22, 2, 3, 5, 6, 5, 7,8, 8,8,9 Virtual iscrizione Allora ecco dove dormiremo stanotte la gioconda parcheggiata quello che ci ha convinto sono sicuramente le lenzuola stese qui ad asciugare la nostra stanza è a questa parte qui c'è il corridoio che porta direttamente da angela che è già sdraiata è bella bianca pare pulita aria condizionata a palla già accesa si sta belli freschi semplice direi un posto semplice dove dormire ci sono delle belle piastrelle tutto piastrellato tante piastrelle piacciono le piastrelle come un grande bagno fondamentalmente e un bel quadro sullo sfondo guarda la vista mare e il bagno da questo lato siamo venuti a mangiare praticamente nell'unico posto aperto che è questo ristorante che fa soltanto pesce quindi prenderemo un piatto di noodles con il pesce e un piatto di riso con il pesce qua dalla nostra parte da questa parte abbiamo il porto che tra l'altro non è per niente illuminato perché tutte le barche sono tutte spente quindi non si vede molto ma la cosa che abbiamo elaborato un piano incredibile abbiamo elaborato quando eravamo in camera per ovviare al problema del vento e abbiamo creato una calza una calza per la gopro e sembra funzionare infatti adesso ancora c'è vento ma spero non si senta ora vi farò vedere col cellulare che cosa abbiamo combinato eccolo qua questo è il nuovo aggeggio calza vedete lì c'è un'anghera una calza tra l'altro bianca di quelle terribili calzino di anghera c'è anche la cucitura fatta bene è roba sera roba sera ragazzi e quindi l'audio finalmente dovrebbe essere ineccepibile speriamo io sto andrei un velo pietoso su quello che è arrivato qua addirittura ragazzi sono noodles istantanei c'è una roba che non si può vedere questo è pesce bu vabbè niente ragazzi è così è l'unico aperto quindi questo era il rischio non sapevamo già in realtà noi da questo banchetto imperdibile vi salutiamo se volete iscriviti al canale noi ci vediamo come sempre lunedì mercoledì e venerdì alle 13 sul canale vengo d'anghera così facciamo un abbraccione di gruppo alla prossima ciao ragazzi ciao